Non solo tifosi del Napoli, questo tocca fare ai supporter azzurri tifare per altre squadre per poter finalmente coronare un sogno, vincere il tricolore che manca ormai da 33 anni all'ombra del Vesuvio. Prima tifosi dell'Inter, domenica scorsa poi è toccato tifare Sassuolo ieri sera, oggi però il cuore sarà solo azzurro, sì perché oggi è il giorno giusto, è quel giorno in cui gli uomini allenati da mister Spalletti non possono sbagliare. Pareggiare o battere l'Udinese a casa sua e salire su quel carro che attende ormai da troppi anni altri vincitori, che non siano i vari Bruscolotti, i vari Renica, gli Alemà o i Maradona, nomi che i tifosi azzurri conoscono a memoria, ma c'è un'altra poesia da imparare, la si deve imparare già stasera per evitare psicodrammi esistenziali, nomi del passato a cui andranno aggiunti nuovi. Meretti in porta, Di Lorenzo, Kim, Rachmani e Mario Ruindifesa, Lobot, Cazelischi, Anghissà, Centrocampo, Varaschelia, Lozano e Osimen Terminale Offensivo. Gli idoli azzurri che con una prestazione sontuosa questa sera dovranno fare esplodere di gioia una città che da una settimana non attende altro, anzi da 33 anni. Il conto dallo psicologo altrimenti sarebbe troppo salato.